Piazza d'onore al prestigioso premio nazionale ICAM svoltosi a Rimini per il maestro pasticciere Francesco Manfredi, già Man of the Air in America ed ora un altro successo conquistato in Italia, un successo che gli ha fatto consegnare una Vespa di ultimo grido, insomma un successo dietro l'altro. Certo sì, è stata una bella soddisfazione in quanto al concorso eravamo 12 professionisti quindi c'era da preparare qualcosa di nuovo, un design nuovo e quindi è stata apprezzata questa nuova linea di prodotto. Un successo nazionale che si unisce ai tanti successi internazionali, proprio alcuni anni fa tu sei stato anche il pasticciere dell'anno in America, insomma è come la ciliegia, una tira l'altra. Esatto sì, sono soddisfazioni che comunque fanno piacere dietro lo sforzo e i sacrifici che uno ci mette quindi vengono premiati in un giusto modo. Ora con tuo fratello, un altro campione italiano, Domenico Manfredi, ti sei riconciliato, ti sei tornato in Italia ma in pratica volete fare piazza pulita di tutti. Vabbè è bello lavorare insieme col fratello perché comunque le idee vanno condivise e quindi siamo bene amalgamati insieme quindi riusciamo ad avere grandi successi. Tu campione americano, lui campione italiano, tu a piazza d'onore al premio ICAM, insomma una famiglia d'arte la vostra. Diciamo così, grazie anche a nostra madre che ha iniziato questo percorso e lo stiamo portando avanti io e mio fratello in giusto modo. Grazie a tutti.